Episodio da rivedere A catechizzare i suoi fischio di Gian Lorenzo Battuta di Zinni, ballone che passa, si allontana, allunga Gagliardini Gagliardini vola a dire di no Mentre sull'angolo c'è un garretto sul diagonale Il passo è tutto il passo Quando Gagliardini si trova il sentimento così bene Con il corpo di gambe, il corpo trova la conclusione sul primo palo Centro, Gagliardini Rettendo il portiere di Zinni Il passo è tutto il primo passo Gagliardini è il portiere di un piano di città Il tabellino della cronaca più sciente Non lo sceglie, non lo sceglie, non lo sceglie, non lo sceglie Non lo sceglie, non lo sceglie, non lo sceglie E stiamo in casa, c'è la palla del quattro dicesimo Gagliardini vola all'altra destra Disinnescare la conclusione Minuto 42 Vento le riparabate della vita Gagliardini alza Gagliardini 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 Pallone in mezzo, sono caviati in mezzo, con l'apretto, si chi pare di Paolo Poi con le maniche, subito, ne va da controllo Pallone in mezzo, uscita Pallone in mezzo, uscita Pallone in mezzo, uscita Pallone in mezzo, uscita nel mezzo il pallone che sfida la sua la sfera tra l'altro che la mette le tacche di benedetto però il pallone tra l'unito che è il mio professore nel mezzo Gagliardini con una mano e dall'altro in realtà la Gagliardini con i pugni selmanai la Gagliardini a un poore l'unito un poore a l'unito l'unito non